Buongiorno. Vorrei innanzitutto esprimere il più sentito e profondo cordoglio per quanto accaduto ieri sera a Nizza e la nostra vicinanza al popolo francese e ricordare come questo sia l'ennesimo dolore prodotto a quel grande popolo e questa volta in occasione del festeggiamento della loro ricorrenza nazionale è un attacco ulteriore che offende coloro i quali credono nella libertà e nei principi fondamentali dell'uomo. Ieri sera subito dopo i fatti di Nizza mi sono tenuto in contatto con il direttore della pubblica sicurezza e capo della polizia prefetto Franco Gabrielli per attivare immediatamente delle iniziative a tutela ulteriore del nostro territorio e quanto è successo a Nizza ha sconvolto immediatamente il mondo intero e ha chiesto a ciascuno di noi di assumere delle iniziative. Noi abbiamo già ieri sera di fronte a quel che abbiamo sentito e visto assunto immediate deliberazioni e immediate iniziative. La prima è stata quella di incrementare i controlli alle frontiere non solo quella di Ventimiglia ma anche quelle piemontesi. Per quanto riguarda Ventimiglia noi abbiamo attivato ulteriori controlli anche grazie a 30 unità della polizia di stato e 9 unità dell'esercito. Due pattuglie una della polizia stradale e una della polizia di frontiera sono state dislocate al casello autostradale di Ventimiglia. Due pattuglie, una del commissariato, una delle polizie frontiere e tre militari al valico di Ponte San Luigi. Altre due pattuglie, 10 unità del reparto mobile e tre militari al valico di Ponte San Ludovico. Una pattuglia della polizia di frontiera al valico Fanghetto e poi alla stazione ferroviaria abbiamo aggiunto 5 operatori della polizia ferroviaria e tre militari. Per quanto riguarda il Piemonte, al Limone Piemonte abbiamo aggiunto quattro pattuglie, 6 pattuglie in più a Bardonecchia, 4 pattuglie sul Monte Bianco per un totale di 28 unità. Questo l'abbiamo fatto nell'immediatezza, in nottata. Abbiamo attivato le forme di cooperazione internazionale più efficaci perché sono stati assicurati già nella notte i collegamenti con la sala operativa dell'Interpol. Siamo in contatto quindi con l'esperto della sicurezza a Parigi che si è recato a Nizza, il coordinatore del centro di cooperazione di polizia e dogana di Ventimiglia che si sta recando, anzi si è già recato sul posto su richiesta del console italiano a Nizza. Poi questa mattina alle 9 abbiamo riunito il comitato di analisi strategica antiterrorismo. Voi sapete che questo comitato di analisi strategica si riunisce tutte le settimane e produce quelle analisi da cui deriva il flusso informativo che per competenza va in parte ai magistrati, in parte alla struttura nostra qui del Viminale e in parte alle singole forze di polizia. Quello che ha colpito ovviamente è stata la protrazione dell'accanimento violento perché per realizzare una esplosione o per farsi esplodere bastano dei centesimi di secondo. Qui c'è stata l'accanimento violento di chi per lunghissimi istanti, anzi molto più che istanti, ha ucciso persone non badando ai bambini. Noi abbiamo purtroppo una lunga serie di eventi, di attentati che descrivono una cronologia del terrore non solo in Occidente. Quello che si è verificato ieri purtroppo era stato anche in un qualche modo teorizzato nel 2014 al Adnani, che è il portavoce del sedicente Stato islamico, così diceva, tra virgolette lo leggo, se non siete in grado di procurarvi un ordigno esplosivo o una pallottola allora scegliete un infedele americano o francese o qualunque altro loro alleato e rompetegli la testa con una pietra o accoltellatelo, investitelo con un'auto, buttatelo giù da una altura, strangolatelo o avvelenatelo. Insomma il meccanismo del riferimento al car jihad era già insito nei proclami del portavoce dell'autoproclamatosi Stato islamico e già avevamo avuto dei precedenti ancora prima nel 2008 quando un arabo israeliano si gettò su un'auto e passanti nel centro di Gerusalemme con una ruspa sottratta poco prima al cantiere oppure nel maggio del 2013 a Londra due attentatori di origine nigeriana che si scagliarono con la loro autovettura contro un soldato dell'esercito britannico per poi infierire sulla vittima con un'arma da taglio oppure ancora il 20 ottobre del 2014 in un soborgo di Montreal era stato un altro soggetto che aveva volontariamente investito con la propria autovettura due militari canadesi uno dei quali è deceduto nell'impatto mentre l'altro è rimasto ferito. Questo per dire che era stato teorizzato ed era già stato realizzato in parte il meccanismo della car jihad cioè questi criminali sforzi di avvicinarsi a dio anche attraverso l'uso di automezzi e di autoveicoli. Nel corso del comitato di analisi strategica antiterrorismo abbiamo fatto il punto sulle misure di sicurezza del paese voi sapete che il nostro livello di allerta è già allo stato precedente a quello dell'evento terroristico in corso quindi non si può innalzare e ringraziamo il cielo se non dobbiamo innalzarlo ma abbiamo ulteriormente e il prefetto Gabrielli ha già provveduto abbiamo ulteriormente deciso di scrivere inviando una nota a tutti i prefetti e questori della nostra penisola per sollecitare ulteriori valutazioni di rischio sul territorio e per rafforzare sugli obiettivi sensibili ogni forma di controllo. Voi seguite bene le vicende anche della criminalità terroristica e sapete bene che a Charlie Hebdo la modalità era stata di aggressione nei confronti di un obiettivo sensibile già presidiato che nel caso del Bataclan invece si era avuto uno spostamento sui cosiddetti soft target cioè sui luoghi della nostra vita quotidiana in entrambi i casi furono sparatorie furono bombe in questo caso il meccanismo è ancora differente ed è un meccanismo che rappresenta un ulteriore cambio di schema di gioco anche in riferimento allo stesso territorio cioè al territorio francese. Tutte le informazioni di cui noi disponiamo sono quelle che ci vengono dai francesi quindi tutte le nostre analisi e tutte le nostre comunicazioni si fondano sulle informazioni che vengono direttamente dai francesi. Alla luce di esse e alla luce delle nostre informazioni invece sul territorio nazionale abbiamo dunque deciso di rafforzare ulteriormente i nostri sistemi di vigilanza e di presidio degli obiettivi sensibili e abbiamo costituito ulteriormente una forma di riunione permanente del comitato di analisi strategica antiterrorismo. Tenete conto che questo comitato di analisi strategica antiterrorismo ha avuto un lavoro straordinario perché ha fatto fin qui 75 tornate settimanali di controlli ininterrotti e tutto questo ha significato una serie di risultati che dopo vi illustrerò. Però quello che tengo a dirvi è che sono attive sul nostro territorio anche delle nuove strutture che sono state attivate dall'arma dei carabinieri e qui rappresentato dal comandante generale Tullio del 7 e dalla polizia di stato perché sono state istituite non questa mattina in questa occasione ma è probabilmente la prima volta che viene reso noto delle unità operative di pronto intervento da parte della polizia di stato le aliquote di pronto intervento da parte dei carabinieri e le squadre operative di supporto sempre dei carabinieri. Sono dei nuclei specializzati in eventi e nella prevenzione di eventi di natura terroristica hanno una struttura formativa che li rende davvero specializzati. Sono delle forze anche di raccordo rispetto ai corpi specializzati delle singole forze di polizia quindi noi disponiamo di ulteriori gruppi che sono appunto le unità operative di pronto intervento della polizia cosiddette UOPI, le aliquote di pronto intervento dei carabinieri e le squadre operative di supporto da parte dei carabinieri. Abbiamo monitorato nelle ore immediatamente successive dunque la notte e nei minuti immediatamente successivi l'evento di Nizza abbiamo monitorato le carceri. Ha riferito di questo il presidente Santi Consolo che è il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria perché sappiamo come le carceri diventino spesso il luogo della radicalizzazione. A differenza di quanto si è verificato in altre circostanze in questo caso non abbiamo avuto segnali di entusiasmo, di condivisione o sostegno da parte di affiliati a organizzazioni che sono nei nostri istituti di pena o anche di singoli soggetti stranieri di fede musulmana o nazionali italiani di qualunque fede essi siano a sostegno o a solidarietà per quanto accaduto. Ovviamente anche il mancato sostegno merita analisi e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sta procedendo a sviluppare ogni forma di analisi che possa essere utile in questa direzione. I controlli nostri negli aeroporti sono assolutamente attivi. Abbiamo per 17 aeroporti un piano ben preciso di impiego delle forze armate anche a sostegno dei nostri aeroporti e abbiamo una vigilanza che si giova nell'ambito del presidio degli obiettivi fissi dell'uso di 7.050 uomini delle forze armate. Nel giorno precedente l'attentato noi avevamo fatto anche una esercitazione antiterrorismo e cioè l'altro ieri notte che avevamo denominato termini 2016 e ieri mattina abbiamo fatto un comitato nazionale ordine sicurezza pubblica. L'avevamo fatto prima dell'attentato e questo perché noi teniamo il nostro sistema in tensione funzionale. Non è una tensione ovviamente che deve paralizzare o deve angosciare il nostro sistema, anzi l'esatto contrario è una tensione funzionale tutta orientata all'obiettivo di renderlo assolutamente efficiente sia nel meccanismo della prevenzione sia nella sciagurata ipotesi che nessuno può escludere perché non esiste il rischio zero di un evento che dovesse accadere nel nostro Paese. Abbiamo un articolato dispositivo operativo disposto in campo che ha fatto registrare significativi risultati con l'incremento dei soggetti arrestati, denunciati e sottoposti a procedure di espulsione e respingimento per cui anche nel corso del comitato nazionale ordine sicurezza pubblico di ieri abbiamo fatto il bilancio dell'attività di prevenzione. Voglio sottolineare che la prevenzione è quanto di più grigio e faticoso possa esistere nel sistema della sicurezza perché tu lavori per evitare che qualcosa si verifichi e il giorno che il qualcosa non si verifica e fin qui è successo in Italia tutti i giorni ringraziando il cielo nessuno collega la tua azione di prevenzione, lo sforzo delle forze dell'ordine del sistema dei prefetti in Italia al risultato che nulla sia accaduto. Ma è il nostro dovere ribadire che se nulla è successo fin qui è certamente anche perché sono state controllate dal primo gennaio del 2015 154.136 persone, sono state eseguite 2.717 perquisizioni su soggetti ritenuti contigui ad ambienti dell'estremismo religioso, sono stati controllati 32.776 veicoli e i passeggeri di 344 navi individuate sulle rotte utilizzabili dai cosiddetti foreign fighters, dai combattenti stranieri europei che vanno a combattere in Siria o che vogliono tornare in Europa, sono state arrestate 531 persone, sono state indagate in stato di libertà 837 persone e sono state eseguite 99 espulsioni di soggetti che si erano evidenziati per il loro avanzato processo di radicalizzazione oppure per avere fornito sostegno ideologico allo Stato islamico. Tra loro c'erano anche sette imam e devo dire che in questo senso l'azione si svolge nel corso del decennio perché dal 2002 sono stati complessivamente 25 i predicatori islamici espulsi. Inoltre le DIGOS italiane hanno tratto in arresto dal 2015 ad oggi 55 persone coinvolte in indagini connesse al terrorismo internazionale e a queste vanno ad aggiungersi altre 28 persone arrestate dai reparti antiterrorismo dell'arma dei carabinieri. Dicevo poco fa che la notte precedente, ossia l'altro ieri notte, abbiamo svolto l'esercitazione a Roma chiamata Termini 2016. Era una delle esercitazioni, ovviamente non era la prima e non sarà l'ultima, che era stata programmata per testare le procedure contenute nel protocollo operativo del Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica. Noi abbiamo un protocollo operativo che è pronto a dispiegare i nostri uomini e i nostri mezzi in campo nel caso di un evento che possa accadere o che cade in Italia. Noi poniamo in campo le nostre strutture, i nostri uomini e i nostri mezzi con simulazioni di eventi terroristici e l'ultima occasione è stata proprio l'altro ieri notte. La simulazione ha visto la partecipazione personale anche dei comandanti generali dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza e il responsabile del comando operativo interforze delle nostre forze armate, oltre che i vertici dei vigili del fuoco e della protezione civile. È stata gestita tutta l'esercitazione dalla sala crisi del Dipartimento della pubblica sicurezza e ha visto impegnati i reparti più specializzati delle nostre forze dell'ordine, a cominciare dai GIS, dei NOX e dei COFS presso l'area della stazione Termini. Avevamo già fatto delle esercitazioni che si erano tenute a Milano nel 2015 e a Roma nel settembre e nel gennaio del 2016, nell'imminenza dei due grandi eventi di Expo e del Giubileo. Tutto questo lavoro è un lavoro che noi continueremo a svolgere, lo faremo con i nostri reparti più specializzati e lo faremo con tutto l'impegno che le nostre forze dell'ordine, che ringrazio, hanno dimostrato di sapere mettere e di volere mettere fino ad adesso. Noi siamo un grande Paese appartenente a quel mondo libero che contrasta il terrorismo internazionale fin dalla caduta delle Torri Gemelle. Questo appartenere a quella coalizione di Paesi che combatte per la libertà e contro il terrorismo ci rende obiettivi naturali come gli altri Paesi che hanno o che non hanno subito eventi di questo genere. Siamo al lavoro giorno e notte con tutte le nostre forze dell'ordine, le nostre forze di polizia, con l'esercito per prevenire. Quando parliamo di espulsioni per motivi di sicurezza nazionale parliamo del nostro sforzo di, virgolette, bonifica del territorio nazionale da soggetti che possono essere radicalizzati, possono essere a rischio e possono essere contagiosi. La minaccia, prendendo a prestito le parole di un noto intellettuale, è sempre più liquida, difficilmente afferrabile nella sua organizzazione dal punto di vista strutturale. È molto spesso affidata ad attori solitari, che dunque sono difficilmente prevedibili nella loro azione, ciò nonostante fin qui il nostro sistema ha funzionato. È un sistema che si giova delle migliori specialità delle nostre forze dell'ordine e del nostro esercito ed è un sistema che si giova di ogni forma di controllo possibile, per cui i rappresentanti della Guardia di Finanza, che saluto e che ringrazio questa mattina al Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo ci hanno detto che hanno ulteriormente effettuato dei controlli sui trasferimenti di denaro, sul money transfer, che è stato da loro monitorato ulteriormente, così come il monitoraggio nell'ambito del rispetto delle regole, ovviamente, è effettuato dalla Polizia delle telecomunicazioni relativamente al web, per vedere se attraverso il web arrivano messaggi di solidarietà oppure messaggi di incitamento all'odio e alla violenza. È un lavoro che è fin troppo ovvio dire che non parte da questa notte, ma è un lavoro che si è sviluppato nel corso dei mesi e degli anni, così come si è ribadito che il punto fondamentale in questo momento è avere sempre un'organizzazione allertata per un evento o per la prevenzione, ma il tema non è normativo in questo momento, perché dal punto di vista dell'assetto sanzionatorio, cioè delle norme, il nostro Paese è in uno stadio molto avanzato grazie all'ultimo decreto antiterrorismo che abbiamo approvato. Quindi da quel punto di vista poco rimarrebbe da implementare o da mettere in maggiore efficienza. Io ringrazio tutti coloro i quali ci hanno dato la possibilità di poter dire queste cose questa mattina e mi riferisco a tutte le forze dell'ordine, al sistema delle prefetture che ha lavorato brillantemente in tutti questi mesi. Prosegue il nostro lavoro e prosegue la nostra azione di monitoraggio di tutto ciò che può servire per rendere sicuro il nostro Paese, sempre più sicuro il nostro Paese. Bene, vi ringrazio e buona prosecuzione di giornata.